Oggi mi trovo ad Officina della Pizza Per presentare la pizza più fiera del mondo La pizza SCEPPO DI LEGNO Allora ragazzi qui c'è poco da scherzare Perché la pizza è una cosa seria Molto seria Non si può prendere sotto gamba Quando mi hanno proposto di assemblare Di creare la pizza SCEPPO DI LEGNO L'ho fatto così a caso La cosa più importante sono gli ingredienti Ovviamente I funghi porcini Il tartufo E ovviamente la mozzarella Io credo che questo abbinamento Sia il più fiero in assoluto Ho dovuto rifletterci un po' Davvero ragazzi Mi sono proprio impegnato E' già in lavorazione Alle mie palle Addirittura il pizzone Sta facendo E' un barile di merda Ragazzi che fame Che fame che mi sta venendo Non potete proprio capire Verza Se questo dato fosse vero Ma No No Ragazzi Adesso è arrivata la parte più importante Ma Mamma mia Oddio Prendiamolo Che cosa sta facendo lì Proprio E' invece puzza E' invece fa Schifo Guarda Guardalo Guardalo lì Guardalo Grasso e fiero Mamma mia E' giunto Il fatidico momento Il momento Dell'assaggio Ma fa l'assaggio Vieni che mi pulisco ogni cosa Io mi pulisco Tu Lo Mangeresti con gli occhi Lo so Ma Purtroppo non puoi Perché non sei qui Ciao 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 METBETROS FUNTE! Grazie a tutti.